Dopo tre anni di riflessivo silenzio, Florella sommette sulla speranza, la vera protagonista di uno dei suoi album, fin dal titolo. Perché la speranza, dice la cantante, è la parola più bella del vocabolario, la più concreta. E' la spinta propulsiva che muove la nostra vita, tanto più necessaria ora che, tramontando un millennio, ci si prepara al grande salto. Parleremo ancora di Florella Mannoia in un episodio di Riccardo, Sinfoni più musico solo, e Kerazio Podcast della serie La Storia della Musica.